Grazie a tutti. Repubblica, parliamo di articolo 18, salta il referendum, no, al referendum la consulta si spacca e approva quelli su voucher e appalti per la CGL, si valuterà ricorso all'Unione Europea, intanto Gentiloni operato d'urgenza al cuore dichiara sto bene, tornerò presto il Movimento 5 Stelle, un nuovo caso in Europa, la consulta si divide, alla fine boccia il referendum proposto dalla CGL sull'articolo 18 e promuove quelli sui voucher e sui appalti. Massimo Giannini scrive, i supplenti della politica nella sua analisi, non sappiamo se la consulta di fronte ai referendum sul lavoro abbia fatto davvero una scelta politica, bisognerà leggere le motivazioni per capire quanto siano invece forti le ragioni del diritto. Ezio Mauro invece scrive, Grillo la setta dell'altrove non è esattamente una passeggiata di salute, quella che Grillo e Casaleggio si sono fatti sulla Grand Place di Bruxelles. Nel breve ridicolo e clamoroso avanti e indietro tra gli anti-europeisti di Farage e i liberari di Verhofstadt si radunano infatti tutti i demoni risolti di un movimento perennemente allo stato gassoso, che non riesce a consolidare alcunché perché non avendo storia e tradizione, il che non è certo una colpa, non ha nemmeno saputo costruirsi un deposito culturale di riferimento a cui ancorare le trovate estemporanee del leader, abituata ad uscire da una quinta per cambiarsi d'abito e ricomparire dall'altra con uno sberleffo. Il racconto Woody Allen, Mary, scandalo ad Hollywood, la vita è terribilmente ingiusta, scrive Woody Allen, anni fa quando rimosso il vecchio linoleum di un appartamento malmesso che avevo preso in affitto ci trovai sotto soltanto schmutz, schifezze assortite, chewing gum solidificato e la matrice strappata di un biglietto per la pièce teatrale di Moose Marders e il pezzo di Woody Allen che troviamo all'interno di Repubblica. Il personaggio, Maria De Filippi, firma la santa alleanza del festival, sempre più tombale, eppure sempre arsillo. Il festival di Sanremo viene considerato da chi non lo molla una specie di gran polpettone dello spettacolo da riempire con qualsiasi ingrediente allo scopo di irretire ogni tipo di spettatore e la coppia, quindi Carlo Conti e Maria De Filippi per il festival della canzone italiana. A centropagina invece la fotonotizia Pamuk, la neve di Istanbul nelle mie foto, il premio Nobel, una magia bianca sulla città ferita. La foto che troviamo su Repubblica, poi le due Americhe, Obama resto con voi, il rompe Trump, ma io cambierò tutto. Rampini scrive, esce di scena Mr. Cool al suo posto, comincia The Truman Show nell'arco di sole 12 ore, gli americani hanno ascoltato Barack Obama nel suo discorso di addio a Chicago. poi Donald Trump nella sua prima conferenza stampa da Presidente eletto alla Trump Tower nella quinta strada di Manhattan. Il parallelo Donald a scuola di Silvio, Francesco Merlo scrive, ora sì che sono uguali, ora che in scena c'è il lettone di Putin. Dunque, dopo la post verità delle notti di Donald con le escort, Trump diventa, tra virgolette, Berlusconi. In dettaglio basso, le altre notizie su Repubblica. Il mercato segreto dei fratelli spioni, rimosso il capo dei detective, lo spionaggio come business, trafugando in Italia informazioni riservate per fare affari a colpo sicuro, per rivenderle su un mercato internazionale di investitori senza scrupoli. È un'ipotesi che nasce dalle nuove analisi sui sistemi usati dai ormai celebri fratelli Occhio Nero, arrestati per le operazioni di accheraggio contro Renzi, Monti e Draghi. Ieri Giulio Occhio Nero ha rispinto le accuse. Mi avete incastrato voi, sono le sue dichiarazioni. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha rimosso il responsabile del reparto di investigatori che non ha informato i vertici sulla minaccia alla sicurezza delle istituzioni. Infine, il caso, il figlio sedicenne all'amico, ti pago mille euro se ammazziamo i miei. Ti do mille euro per uccidere mia madre e mio padre. Il figlio dei due ristoratori uccisi a Codigoro ha chiesto l'aiuto del miglior amico per il duplice delitto. Allora, continuiamo la nostra rassegna stampa, apriamo la prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui ovviamente la notizia principale sul referendum saltato sull'articolo 18. Non voteremo, la Corte Costituzionale si pronuncia, sulle elezioni si decide. Dopo le motivazioni, Gentiloni intanto operato, dice torno presto. 8 giudici contro 5, stop quindi al referendum, si a voucher e appalti. Si quindi al quesito per l'abbrevazione dei voucher, no al referendum sull'articolo 18. La Corte Costituzionale ha deciso, 8 giudici contro 5, passa la linea di Giuliano Amato. In attesa delle motivazioni, il dibattito si sposta su quando votare per le politiche. Intanto intervento di angioplastica per il Premier Gentiloni. L'addio di due eurodeputati, Grillo ai fuoriusciti, pagate. Dopo il pasticcio europeo dei 5 Stelle, lasciano gli europarlamentari zanni e a fronte. Ma Grillo si dimettano o versino 250 mila euro. Il commento di Antonio Polito, i Renzi respira, i nemici a sinistra non hanno vinto. C'è un'indiscutibile logica nella sentenza con cui la Corte Costituzionale ha negato l'ammissibilità del referendum sull'articolo 18. Per come era scritto il quesito, la sua approvazione avrebbe introdotto una nuova norma mai votata da nessun Parlamento. L'indagine e le conseguenze di intrusioni degli hacker note da tre mesi. Nessuno avvertì. Giulio Occhionero e sua sorella Francesca Maria Occhionero, accusati di aver hackerato le mail a politici manager, si difendono. Siamo delle vittime. Giulio ha ammesso durante l'interrogatorio di garanzia di essere un massone. Ha detto che alcune informazioni mi servivano per il mio lavoro. Intanto però si viene a sapere che le intrusioni sulle mail dei politici erano state scoperte da tre mesi, ma nessuno fu avvisato, nemmeno il premier Renzi per questo è stato rimosso il capo della polizia postale. Tra Stati Uniti e Russia la falce dell'Isis a fretta, scrive Franco Venturini, fatalmente i terrorismi si somigliano e producono gli stessi tragici lutti, ma nella storia di ieri come in quella di oggi, le loro cause e le loro finalità restano spesso diverse. L'orribile attentato di Gerusalemme ripropone tanto le differenze quanto le somiglianze, senza però modificare la tela di fondo. Il cosiddetto Stato Islamico può influenzare i palestinesi più militanti, può essere già diventato un loro occulto consigliere attraverso l'esempio di tanti lelitti, ma la sua battaglia è nichilista e globale, viene combattuta all'interno dell'Islam oppure dove l'Occidente è più vulnerabile e non si è mai fatta coinvolgere più di tanto dalla causa nazionale palestinese. Netanyahu può dunque avere ragione quando parla dell'attentatore simpatizzante dell'Isis e quando sottolinea come la dinamica dell'attentato sia stata ispirata dai precedenti di Nizza e di Berlino. Anche se l'intifada dei coltelli e degli investimenti l'hanno inventato i palestinesi più di un anno fa, ma soltanto riscontri oggi non disponibili consentirebbero di stabilire un vero onesso operativo tra Isis e terrorismo palestinese, aprendo allora sì un capitolo nuovo e potenzialmente esplosivo. In attesa delle necessarie verifiche l'Isis non rinuncia peraltro alle sue stragi dopo Berlino e Istanbul e un certo numero di altri massacri che non scuotono più la nostra sensibilità, quelli che si susseguono a Bagdad ad esempio, è diventato evidente che la falce manovrata dagli uomini in nero ha fretta. A centropagina, aggredita dall'ex compagno alle radici della violenza sulle donne, sfregiano la bellezza per cancellare l'identità. Jessica Notaro, 28 anni, ex Miss Romagna, finalista Miss Italia nel 2007, aggredita con l'acido, adesso rischia la vista. Ancora un caso purtroppo vergognoso di violenza contro le donne, in America Trump minimizza la regia di Mosca ricattabile, mai e poi ancora in taglio basso 1000 Euro per uccidere i genitori all'amico, delitto a Ferrara, sedicenne confessa il patto, era stanco delle liti per i brutti vuoti a scuola. Quindi altre due notizie sul Corriere della Sera, dalla parte di quel bambino a 10 anni, il tredicenne Marco al centro della guerra tra i genitori, usato come strumento del conflitto di coppia, per i giudici minorili di Venezia le condizioni psicologiche del ragazzino peggiorano. E poi la nazionale di tutti i tempi, da Buffon arriva, l'Italia perfetta. Andiamo a leggere, Buffon, Burgnik, Nesta, Scirea, Maldini, Pirlo, Tardelli, Valentino Mazzola, Rivera, Causio, Riva. Questa è la nazionale di tutti i tempi, secondo Mario Sconcerti, per il Corriere della Sera. Ci fermiamo, piccolo break per noi e poi torniamo con tutte le notizie di oggi e fra poco.